Giordi vuole organizzare le piante e io volevo fare qualcosa di complicato però facciamo cose semplici ho recuperato adesso in giro per il giardino dei vasi di terracotta sono questi qua ne ho presi molti altri e voglio dargli vita questi vasi infatti la mia idea è quella di creare una specie di pupazzo un bambino prima di tutto mettiamo un po di musica e poi continuiamo il primo passaggio è verniciarli la vernice che userò è questa arancione chiaro arancione scuro manca il pennello cominciò col primo vaso faccio questo lavoro anche con l'altro ma in questa volta con una vernice più scura infatti voglio creare un contrasto tra la pancia di questo pupazzetto e la testa intanto ho preparato altri piccoli vasi saranno i piedi e le mani di questo pupazzetto queste corde infatti fungeranno come braccia e gambe in questo modo posso prendere i vasi piccoli in questo caso saranno le mani mettiamo e per bloccarlo definitivamente posso fare un classicissimo nodo niente di complicato ora c'è un problema se mettessi il vaso che sarebbe la testa qua sopra dondolerebbe leggermente ma possiamo risolverla con un piccolo colletto sempre fatto con altre corde un po di silicone sulla corda il silicone si è asciugato mi sembra tutto quanto solido mancano i dettagli pensavo di fare una faccina un sorrisino quindi un occhio qua la bocca qua che sorride il silicone si è asciugato ho fatto anche gli ultimi dettagli tra cui un bel faccione che sorride a me piace però sono sicuro che giordi avrà qualcosa da ridire perché è pignola